Sarà un'estate all'insegna del tutto esaurito in Campania, dove si registrano già numeri importanti sul fronte turistico. Un dato evidenziato anche dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che intervistato dal direttore Pierluigi Melillo nel corso di Punto di Vista, ha sottolineato come il trend della penisola sorrentina si è tornato ai livelli pre-Covid. Le nostre strutture sono pronte, quello che posso dire loro è di avere fiducia, piena fiducia in quello che saranno i prossimi mesi. Sono mesi in cui la città tornerà a livello numerico a quello che è l'epoca pre-Covid, quindi bisogna essere fiduciosi e lavorare con serenità. Numeri importanti si registrano anche a Salerno, dove si sta fermando il turismo croceristico. Nelle scorse ore sono arrivate due navi, con tanti visitatori che hanno scelto di trascorrere la giornata tra le strade della città. La città è stupenda, bella da visitare, un bel passeggio sul lungomare, insomma, si può dire eccellente. È una bellissima città, ricca di cose da vedere, molto bella. Poi il mare, per me dove c'è il mare c'è tutto. Bello, niente da dire per adesso. Per qualcuno però si potrebbe fare di più, soprattutto sul fronte della manutenzione. Ho notato che c'è tutta l'erbaccia insieme ai fiori, quindi diciamo si devono curare poi le cose dopo che si fanno. Quindi mi raccomando che è importante per i turisti.